Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come promesso sfogliamo i due album, il 14 e My Magic Christmas. L'album 14 valido dal 22 ottobre all'11 novembre. Abbi ancora qualche giorno se per caso vi interessa qualcosa per contattarmi. Invece My Magic Christmas è valido dal 30 ottobre al 27 dicembre. Partiamo subito dall'album 14. Allora, in copertina cosa troviamo? Troviamo subito la novità di questo album che è il fondotinta. Come vedete ha tantissime colorazioni e quindi adesso andiamo subito all'interno per vedere quali sono. Come vedete nelle prime due pagine ci fa vedere le offerte migliori che troveremo all'interno e ci dà qualche informazione su questo nuovissimo fondotinta L'Eradio. Ci dice che è in 30 tonalità, quindi direi che comunque si approccia veramente con qualsiasi tipo di pelle. E ci dice anche che acquistando un fondotinta L'Eradio in regalo il siero doppiazione L'Easy Jeunesse. E poi ci dice ancora che il flacone è in vetro riciclabile e che è senza alcol. Poi andando avanti ci fa vedere appunto tutte le tonalità che abbiamo divise come vedete per colore della pelle e ci dice che praticamente renderà il nostro incarnato splendente e la pelle sarà protetta dall'inquinamento. Qua ci dice come trovare la giusta tonalità, cioè ci aiuta a trovare la nostra tonalità. Io ancora devo capire qual è la mia, infatti per quello che non uso il fondotinta. Io direi questa, ma questa no, questa è troppo scura perché è qua. Ma anche Doré secondo me è troppo scura, cioè... Però questo mi sembra troppo chiaro. Andando avanti troviamo il correttore ad alta comprensa illuminante. Anche questo qui ha comunque tante tonalità, quindi si... E poi un'altra novità di questo album è la cipria in polvere che ha una tonalità universale adatta a tutti gli incarnati. Anche questa qui è veramente ottima perché comunque non dover, almeno su quello, non dover scegliere un colore ma averne una che va bene per tutti, secondo me è fantastico. Ha una texture ultra sottile, morbida e leggera. E poi c'è, vabbè, il pennello per la cipria. Andando avanti ci sono altri tre fondotinta. C'è questo qui. Aspettate. Mi sembra meglio. C'è il primer qua in alto che appunto serve per fare la base del tocco. Sì. Poi quest'altro fondotinta che è in 14 tonalità e che è per pelle perfetta 14 ore e... ha pigmenti vegetali e minerali. Anche questo qui comunque ha tantissime tonalità, quindi... diciamo... c'è anche qui un po' per tutti. Poi abbiamo quest'altro fondotinta in crema ad alta coprenza 12 ore. qui abbiamo qualche colorazione in meno. E poi invece c'è il fondotinta apacizzante super matte. andando avanti troviamo il fard con il pennello, cioè il fard e sotto il pennello per applicarlo. e poi questo qui è un duo illuminante e poi la terra abbronzante. non vi sto a dire tutti i prezzi perché tanto comunque li vedete, cioè li vedete. Qua ci sono i vari pennelli, spugna fondotinta ergonomica e la più comunemente chiamata beauty blender. e due spugne fondotinta. Poi andando avanti abbiamo le varie matite. c'è questa qui, una matite semplice in legno al burro di ricino. poi andando avanti invece c'è la matita colore vegetale. Questa qui è sicuramente più morbida e ha la cera di carnauba. Poi abbiamo queste tonalità, devo dire che queste qui un po' più particolari mi attirano tantissimo, piuttosto che nera. Per tantissimi anni l'ho sempre solo usata nera, anche quando ero un po' più giovane. Devo dire che invece queste qui così non mi dispiacciono. Poi qui abbiamo l'eyeliner brillante. E qui l'eyeliner matte, invece. E qua ancora invece una stilo occhi waterproof. Anche qui ci sono svariati colori. E anche il prezzo direi che non è eccessivo comunque per delle matite che sono comunque di qualità. Poi passiamo agli ombretti. Ce ne sono di diversi tipi. C'è il primer qua sotto per occhi fissatore. E qua invece abbiamo gli ombretti vegetali. Come vedete c'è effetto matte, effetto scintillante e effetto perlato. E poi qui abbiamo i pennellini per andare a mettere l'ombretto, a sfumarlo, eccetera, eccetera. Proseguendo troviamo l'ombretto a lunga tenuta. Però fatto così, diciamo, in matita, invece che nel barattolino. E questo qui con olio di semi di cotone. Ha la mina retraibile. Il temperino è incluso. In 10 tonalità. Ed è tenuta 14 ore formula waterproof. Anche questo qui, per esempio, mi attiva questo colore. Poi andando avanti troviamo il mascara per le sopracciglia, la stilo per le sopracciglia tenuta a 12 ore, le pinzette per le sopracciglia e la matita, invece, normale di legno. Con la mina, il burro di karité, dall'altra parte c'è lo scovolino per andare a pettinare, per uniformare bene il colore. Qua abbiamo una vasta scelta di mascara. Abbiamo quello maxi volume, lunghezza vertiginosa, volume vertiginoso, volume trattamento e volume 360 gradi. Anche qui una vasta scelta per ogni tipo di esigenza o di esigenza. Poi andando avanti troviamo la stilolabbra. Queste qui le usavo quando ero un pochettino più giovane. E poi abbiamo il pennello labbra retraibile. Adesso non le uso perché non ho il tempo, ma ritornerò ad usarle perché è importante anche comunque. curarsi. E poi, anche questi qua mi attirano molto i matitoni glossi nutriente. Non sono molto da rossetti, ma più da cose così, tipo il matitone. Anche qua abbiamo diversi colori. Quindi due che riguardano più la colorazione nude, tre che vanno più sul rosa, tre che stanno più sul rosso e due che vanno più sul color malva. Poi abbiamo appunto il semplice rossetto. Questo qui è all'olio di ciliegia. Abbiamo effetto perlato, effetto brillante e effetto satinato. La texture è morbida e invece in questo qui satinato è cremosa. E non è niente male. Anche qua abbiamo diverse tonalità. Come vedete, qualcosa che... Cioè, quelli che vanno più sul nude, sul malva, rosa, rossi. E per tutte e tre le formulazioni, e anche queste qui, non sono niente male. Però io non sono molto da rossetti. Andando avanti, passiamo alla parte manicure, dove ci sono il fluido tipo asciugatura express, uno che è il top coat effetto gel, poi una base per rinforzare, questa qui la devo prendere perché a me mi si rompono le unghie in una maniera vertiginosa, l'elizier per nutrire, poi abbiamo i solventi, un solvente, cioè il solvente delicato, e poi il solvente express a immersione, che anche questo qui è fantastico, perché l'ho visto in un altro video, e è veramente ingegnosissimo. E poi abbiamo gli smalti, non c'è il prezzo, perché è stato un errore di battitura, che costano 4,95 euro, e queste qua sono tutte quante le colorazioni. Mi piacciono anche tanto gli smalti, ma poi non li metto mai. Andando avanti, passiamo alla parte viso, che ci dà anche un incentivo, diciamo, e ci dice, approfitta della promozione per acquistare un trattamento viso a prezzo normale, il secondo prodotto al 40% di sconto. Quindi abbiamo tutte quante le linee viso, c'è questa qui, la sebo vegetal per imperfezioni, punti neri, eccetera, eccetera, poi abbiamo quest'altra linea, sebo vegetal, perché questa qui è la sebo vegetal pur, invece questa qui è la sebo vegetal, che opacizza e purifica, con sebo vegetal appunto anche qui abbiamo, se prendiamo uno di questi due trattamenti viso, quest'altro lo paghiamo al 40%, cioè c'è uno sconto del 40%. C'è poi questa che è l'Hidra Vegetal, che è quella che uso io, che veramente è fantastica, anche qui comprando uno di questi, uno di questi altri, comprando uno di questi trattamenti viso, uno di questi sono il 40%, andiamo avanti, c'è la parte camomilla, ancora, quindi se si compra uno di questi, si può avere un altro al 40%, poi qua abbiamo invece una promozione specifica per il viso, sono detergenti, e praticamente questa promozione dice 2 per 9,95€, quindi anche questo qui potrebbe essere interessante, per se uno fa tanta skin care, è una buona promozione per prendersi qualche prodottino e tenerlo lì. C'è la stessa anche sull'Hidra Vegetal, dove troviamo il tonico idratante, l'acqua micellare, il latte detergente e il gel detergente, e poi abbiamo anche questi altri alla camomilla, dove c'è la crema detergente e l'acqua micellare. Qua ci sono queste spugne di cognac, che erano in offerta nei volantini di Halloween, ma adesso invece costano 6,95€ l'una, i dischetti in cotone, e poi il guanto struccante. Andando avanti, c'è questa novità, strucca e lenisci i tuoi occhi, ci fanno una buona offerta, ci danno un formato da viaggio, c'è il set formato da viaggio, che comprende uno struccante rapido occhi, waterproof makeup da 100ml, più un contorno occhi idratante, a 14,95€ invece di 19,90€, altrimenti un formato maxi, che comprende sempre lo struccante rapido, però da 200ml, più sempre il contorno occhi, invece è uguale, a 17,95€ invece che 22,90€. Poi qui c'è l'acqua micerare lenitiva, lo struccante delicato occhi sensibili, altre cose sempre alla camomille, c'è la crema, dolcezza, viso e corpo, c'è il gel detergente e il tonico, poi qui ci sono le maschere invece per il viso, abbiamo il gommage, granita, luminosità, poi la maschera balsamo rigenerante, la maschera mousse lenitiva, e la maschera gel purificante. Andando avanti, troviamo molte offerte anche sui trattamenti viso, super strutturante, questa qui, giorno e notte, a 19,95€ invece che 32,95€, secondo me è veramente ottimo come prezzo, ed è giorno e notte, quindi è un po' più grande, infatti da 75ml, così avete una crema sola, e la usate sia di giorno che di notte. Andando avanti, ci sono appunto le altre creme, sempre della stessa linea, un'altra offerta, molto interessante, è il balsamo labbra nutri rimpolpante, 2,95€, poi ci sono le creme rigeneranti, latte corpo, crema mani, sempre della stessa linea, poi c'è questa novità, e sono queste creme, c'è il siero illuminante, la maschera danante illuminante, il coratore antimacchia, che appunto tratta le macchie della pelle, quindi anche questa qui è molto interessante, per chi magari ha questo tipo di provè, di problema, e c'è anche la crema antietà comfort notte, poi è il trattamento illuminante occhi, queste qui correggono tutti i segni dell'età, e poi qua c'è la crema giorno, questa qui, e poi c'è la crema antietà sublimante giorno, per pelli secche, andiamo avanti, qui c'è questa linea rossa, che combatti le rughe da una compattezza, con serum vegetal, la linea verde, che rimodella l'ovale del viso, con lifting vegetal, e poi quest'altra, verde chiaro e verde scuro, che è detossina e ripara con elisir giunnes, e poi passiamo ai profumi, qui c'è una vasta scelta di profumi da donna, anche questi qua sono scontati, perché per esempio questo qui, Comune Evidence, costa 34,95 invece che 49,95, e comunque sono molto buoni, e poi ci sono questi, che sono degli altri profumi, sono particolari, sono questo qui tipo è floreale ricco, questo qui è floreale fresco, sensuale vanigliato, sensuale orientale, fresco aggrumato e fresco fruttato, quindi anche qua c'è l'imbarazzo della scelta, ce n'è per tutti i gusti, poi ci sono anche i profumi da uomo, c'è la linea dopo barba, e per fare la barba, e poi alcuni eau de parfum, eau de toilette, più che altro, da uomo, poi passiamo alla parte mani, diciamo, qui c'è il gel detergente, mani senza risciacquo, che adesso lo stiamo usando tantissimo, tutti quanti, qui ci sono varie creme, c'è olio mani, sfogliante, la crema mani idratante, la crema sublimatrice, mani e unghie due in uno, e la crema mani nutriente, poi ancora qua troviamo il balsamo mani antifreddo, che vorrei prendere per i bambini, perché per quando poi verrà il freddo, quello forte, da metterli sulle manine, comunque loro sono piccoli, hanno ancora la pelle delicata, e la pelle delicata, poi qua abbiamo tutta una serie di offerte, che si possono, diciamo, combinare, per le mani sempre, e dice, due saponi liquidi mani, più crema mani nutriente, a 9,95 euro, le profumazioni sono, oliva e petit grain, mango e coriandolo, noce di cocco, e vaniglia barbo, andando avanti, invece troviamo i gel, per i piedi, perché comunque, giustamente, anche loro, vanno trattati, e poi, l'esfoliante, c'è il gommage detox, e il gommage vegetale, questo qui, leviga, e invece questo qui, levica e purifica, questo qui, è per il trattamento del corpo, poi, andando avanti, abbiamo altre, creme, sempre latte idratante, rassodante, per il corpo, anche qua, ci sono tantissime profumazioni, poi abbiamo i deodoranti, che durano 48 ore, questi profumi, della Monoi, ne ho, hanno usato uno, e sono veramente, fantastici, hanno un profumo, buonissimo, poi, ci sono i complementi, alimentari, qui abbiamo, varie cose, qui c'è, il, defiling, SOS detox, e poi, invece qua, questo qui, è riducente, drenante, per chi magari, soffre di retenzione idrica, questo qui, è, complementa, cioè, sono appunto, complementi alimentari, perché, questo qui, è per la perdita di peso, ma non è che prendendo questo, magicamente, perdete peso, se continuate comunque, a mangiare magari male, ma, dovete, seguire una dieta, un'alimentazione sana, più che altro, ecco, poi qua, passiamo, alle varie profumazioni, dove, tutte quante, hanno, sapone per le mani, la crema a mani, l'olio doccia, il latte corpo, il bagno doccia, e alcuni, anche l'acqua profumata, questa profumazione, in particolare, è noce di cocco, poi, passiamo a vaniglia, barbon, poi abbiamo, lampone, menta piperita, lavandina, e mora, qui abbiamo, amman, argan, e rosa, amman, scusate, oliva, e petit grain, mandala, e fiori d'arancio, qua abbiamo, mango e coriandolo, fiore di lotto, e salvia, e poi, ancora, questi qua, sono un po' più particolari, fiore di tiaree, e qui, altrimenti, pompelmo, e timo, pesca, e anice, stellate, qua ancora, fiore di cotone, e mimosa, poi, abbiamo, i balsami labbra, rieccomi, allora, dicevamo, ho dovuto andare a prendere, già da, la formata del polmino, abbiamo, i balsami labbra, abbiamo, sei, profumazioni, nocce di cocco, vaniglia, carité, e poi, c'è, lampone, mora, e mango, e, niente, sono questi qui, che, ho, preso questi, ma non li ho ancora aperti, poi, capirete perché, questi qui, non so, facendoli vedere così, sembra che colorino, anche un pochettino, le labbra, da come li fanno vedere qui, però, non vi so dire, perché, quelli, di quei tre lì, non li ho ancora provati, poi, passiamo, al corpo e capelli, abbiamo, dei set, a 19,95 euro, rituale, riparazione, è questo qui, che comprende, shampoo, shampoo crema, balsamo districante, maschera due in uno, latte nutriente intenso, crema mani, vaniglia e barbon, e balsamo labbra e vaniglia, poi, questo detox, ecco, sono, è composto uguale, e poi, quello colore, dove il balsamo labbra, è al lampone, però, e invece, c'è in questo qui detox, il balsamo labbra, la noce di cocco, poi, ci sono anche, i trattamenti, per capelli, più mirati, e dice, per l'acquisto, di due prodotti capelli, una maschera capelli, in, a un euro, e qui abbiamo, appunto, il balsamo, tipo giorno e notte, il siero fortificante antirottura, poi, abbiamo questi, che sono, ripara e fortifica, e c'è lo shampoo, il balsamo, la maschera, due in uno, e, ha da 200 ml, invece, quella che viene, data a un euro, da 35, e poi, il bagno all'olio, e qui abbiamo, questo qui, disciplina i lisci, modella i ricci, dona volume, nutri, un avvocato, qui c'è un avvocato, dona brillantezza, ravviva il colore, che è, appunto, frena la caduta, quindi, questo qui, va bene anche, per gli uomini, e poi, c'è purifica, e poi, qui c'è anche la linea, c'è anche uno shampoo, trattante, antiforfora, poi abbiamo, detossina, rispetto ai capelli, e il pianeta, questo qui, I love my planet, e praticamente, questo qui, per ogni prodotto, viene piantato, un albero, e queste qui, sono le maschere, e più o meno, i formati, sono piccoline, che, appunto, avete, a un euro, c'è quella purezza, la maschere, queste qui sono pre-shampoo, e c'è purezza, e anti-inquinamento, poi c'è post-shampoo, e c'è nutrizione, riparazione, e colore, adesso, siccome abbiamo finito, e, ne ho una, ve la vado a prendere, e ve la faccio vedere, eccola qui, io ho quella riparazione, ed è, così, come grandezza, io non ho le mani, tanto grandi, ma, per farvi capire, ecco, arriva qui, comunque, non è piccola, ma non è neanche, grandissima, insomma, per provarla, così, se poi uno si trova bene, può comprare, magari, la, full size, diciamo, adesso, eh, passiamo, velocemente, all'album di Natale, perché, veramente, vi ho già tenuto, 27 minuti, e quindi, se no, vi non vi deterre, 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Ha! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!